L'importante è soprattutto il primo tempo, hanno fatto bene, hanno giocato nei ritmi giusti, con le situazioni giuste, con i tempi giusti. Il primo tempo hanno costruito la vittoria nel secondo tempo, però devo dire che anche la gestione del secondo tempo mi è piaciuta perché non sono stati dietro, hanno cercato di fare gol, gli avevo chiesto di essere 0-0, come se fosse una partita 0-0, così è stato. Siamo partiti subito forte, il primo tempo sapevamo che dovevamo attaccare gli alti, così è stato, e non ci aspettavamo questi tantosi tanti gol, però tra 0-0 il primo tempo la parte difficile è rimanere concentrati subito, appena inizio il secondo, però l'abbiamo gestita bene, abbiamo fatto il quarto, abbiamo chiuso la partita. Abbiamo giocato veramente molto bene, con questo modulo speriamo un bel calcio, si vede che giociamo proprio più spensierati, cerchiamo di più di andare a fare gol, abbiamo più spazi e speriamo di continuare così. Al prossimo episodio